E' bella ragazzi qui XWilberi ritrovati nel mio canale in questo nuovo video e oggi siamo qua ragazzi ritornati su GTA 5 online in compagnia del nostro omino e della nostra poltroncina all'interno dell'ufficio della Seguroserve Ebbene si ragazzi ormai GTA è un po' una creatura mistica, cioè compare, scompare ma più che altro perché non escono nuovi DLC, io avento poco tempo per giocare e gioco d'altro Quindi si attentiamo un nuovo DLC che a dicembre teoricamente dovrebbe arrivare qualcosa, di fatto oggi siamo qui sulla poltroncina degli acquisti per andare ad acquistare un'auto che non è un'auto nuova ma bensì un'auto molto vecchia Perché semplicemente già questa settimana sono finiti i veicoli da far uscire appunto del DLC del casino, quindi molto probabilmente tra una a due settimane massimo avremo qualche news da parte di Rockstar Games su cosa accadrà a GTA Online nei prossimi giorni Ma comunque sia il veicolo che andremo ad acquistare oggi è il Maibatsu Penumbra, sostanzialmente una mistubishi E se non mi sbaglio ci sono delle belle modifiche, abbastanza tuning per quest'auto Il prezzo di quest'auto è 24.000 dollari, praticamente due spiccioli, credo sia una sportiva così a giudicare dal pacchetto che ci viene presentato E niente, andiamo a leggere la descrizione del veicolo L'utilitaria dalle alte prestazioni adatta chi ama derapare in curva nonostante ci siano i bambini a bordo È uscita fuori produzione di recente ma ha tempo un decennio e diventerà una ficata per gli hipster Quindi è un'utilitaria Vabbè adesso vediamo come ce la classificano Ma mi sa più di sportiva che berlina magari Però vabbè dai Andiamo ad ordinarla rossa perché qui ce l'abbiamo rossa Ce la facciamo gandare, mandare al garage del livello 1 E perfetto ci siamo Dando tutti sti soldi per terra noi ce li teniamo da parte per il prossimo DLC Tranquilli tranquilli Così almeno se è vero che esce qualcosa di fuori No aspetta, se esce qualcosa di fuori non è family friendly Se esce qualcosa fuori Almeno abbiamo i soldi per potercelo permettere Quindi ragazzi mi raccomando superiamo assolutamente i 300 like Se volete altri video di questo tipo Dove andiamo ad acquistare e modificare i veicoli su GTA online Mi raccomando controllate che l'ex è andato Cliccatelo per venire Oltre condividete questo video Se lo fate siete dei grandi Si lo so ogni volta metto l'accelerometro alla lingua Quando dico sta roba Ma va bene così Quindi beh adesso sapete più o meno tutti cosa accade Pubblicità Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GTA online? Bene contattami su Instagram Link qua sotto nella descrizione Ok ragazzi ed ecco qui la nostra nuovissima Maibatsu Penumbra Oh mio dio che brutta sta roba qui Che c'è il colore secondario nel mezzo Bruttissima O almeno con questi colori a me non piace più di tanto Ma l'auto normale Dimensione standard Due porte Anzi tre porte Vabbè c'è poco da dire saliamo a bordo e ascoltiamo il sound E vedi che comunque sia non è male È sportiva Andiamo a modificarla Dai vediamo un attimino cosa riusciamo a tirarne fuori Allora Freni li mettiamo al massimo Paraurti Paraurti anteriore Abbiamo già uno splitter Uno splitter E canard in carbonio Vedi che diventa un attimino più cattivina Va bene mettiamo questo Mentre paraurti posteriore Ci abbiamo un posteriore in carbonio Un diffusore e gancio Diffusore in carbonio e gancio Mettiamo Questo qui È molto più cattivo Motori Al massimo ovviamente Marmit Doppio in titanio O tuner in titanio Doppio in titanio Mi piace di più Di sto robo enorme Perché lascia troppo spazio Quindi meglio questa qui Doppio in titanio Andata per questa Sì sì ragazzi Però in culer risposto In cul Oh madonna È ritornato lì in culer Raga non ci credo Non mi ricordo dove Ma tipo un botto di video fa Avevo detto in culer Anziché interculer Mo l'ho rivetto Fantastico Ricado sempre nei miei stessi errori Bellissimo Hashtag in culer risposto Vi metto il cuoricino No Lo lascio con la griglia Mi dispiace C'è cofani In carbonio Presta d'aria Presta d'aria in carbonio Presta d'aria e basta Poi scegliamo il colore Klaxon Vabbè sono sempre I simple Sono anche cinese Sono sempre i soliti Pari all'oxeno Kit neon Schema neon Al massimo Poi scegliamo il colore Come al solito Livrea Vedi che abbiamo le livreaie qui Ci abbiamo striscia bianca Striscia nera Striscia spesse bianca Bello Oppure striscia spesse nere Hard block No hard parking Hard block Ma dove l'ho letto Hard block Madonna raga Oppure ci abbiamo Vinilistico Bello questo Vedi Strappo al neon My bus work My bus racing Mancato di poco Mettiamo questa qui Che non è né tanto invasiva Neanche bruttissima da vedere Vai Entrata per questa Mentre targa è personalizzata Ovviamente Verniciatura Allora abbiamo due colori Come al solito Che colore Andiamo andiamo a fare St'auto Sapete che essendo un'auto Molto tamarrina Quasi quasi anche un verde lime Del genere Ci potrebbe stare Vediamo Vediamo Facciamo esperimenti Ragazzi E noi vediamo Se ci piace bene Se non ci piace Ricambiamo tutto Anche se in realtà Ho anche deciso Il colore secondario Andrò a mettere questo qui Argento Mezzanotte Perché va a richiamare Un pochettino Il colore Della livrea E poi si abbina parecchio Anche al colore Del tettuccio E comunque sia Nel complesso Non è male Perché ci passa anche Il colore Perché ci passa anche La perlascenza Del colore verde Sopra E crea un bel effetto Quindi è andato Per l'argento Mezzanotte Gabbia di sicurezza Ovviamente La metti Tettucci Ah vabbè Lo mettiamo in carbonio Ma no Dai lasciamo così Minigonne Invece ce l'abbiamo Minigonne 1 Minigonne 2 Minigonne 1 Che c'abbiamo Sto dettaglino verde Andata per il dettaglino verde Spoiler Spoiler basso Spoiler alto Alettone gto Alettone tuner Questo qui che sa proprio Di asiatico Non spoiler alto Sospensioni La abbassiamo al massimo Trasmissioni al massimo Pure Turbo Idem Ruote Voglio quelle classiche Con la lineetta Raga io mi sono innamorato Di quella Mettiamo le citta Carbon R E andiamo a mettere Come colore Ovviamente un bel verde Lime Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo Beppe verde lime Guarda qui che cattiva Che è Neomatici Da sempre neomatici Evitiamo le scrittine Gommanti proiettile Si E il fumo A questo punto Lo mettiamo Verde Finestrini Molto oscurati E abbiamo finito Mettiamo solamente Il colore del neon Che a questo punto È di diritto Verde E ci siamo ragazzi La nostra auto Stile Tokyo Drift Bella che pronta Usciamo fuori E andiamo a provarla E ok ragazzi Ed eccoci qui fuori Con la nostra My Buds Su penumbra Bella che modificata E in realtà Ha raggiunto Egregiamente Il risultato Che volevo Un'auto Molto Ma molto In stile Tokyo Drift Mi piace la livrea Mi piace anche Il colore Che abbiamo scelto E il fatto Che si abbina Benissimo Con Il discorso Lì del bordino Nel cerchio E del neon Perché entrambi Sono verde lime Bella anche La parte centrale Che è sempre A mantenere Un pochettino Il colore Del carbonio E il colore Standard Diciamo Comunque sia Nel complesso Mi piace Non è male Era proprio Ciò che volevo Quindi saliamo a bordo E ascoltiamo il sound Uuuu Vedi Sembrava che scoppiettasse E basta E invece ogni tanto Una fiammetta la butta Ma comunque sia Non è male Allora Si classifica Nelle sportive Quindi vediamo Un attimino Come si comporta Quest'auto Interni Nel frattempo Gli interni Sono classici Nulla di particolare Il controllo Mi sembra Veramente eccezionale Trazione posteriore Quindi Bene bene Oh ma Vabbè Qualcosa la devo Prendere sempre No Ovviamente Comunque si Andiamo sull'autostradina Della velocità E vediamo un attimino Come si comporta La nostra Magnifica auto Come sappiamo Qui è più fake Di non so che Difatti mi dà Che siamo a 80 Guarda Ora cambia marcia Magari Vedi cambia marcia Ma siamo sempre a 80 Siamo a 81 Forse Mamma mia Di sicuro Non è l'auto Più veloce Del mondo Ecco Ma c'era Da aspettarselo Però alla fine Carina da vedere Io l'ho presa solamente Per un motivo estetico Cioè a me non ti spiace Da vedere Soprattutto da davanti È molto bella Comunque sia Questa qui È la velocità massima Discreta Quindi beh Andiamo a schiacciare Il freno Il freno a manetta Tantissimo Perde velocità Perde velocità Ma non la butti fuori È ok Ci può stare Adesso vediamo un attimino Le curve ad alta velocità Come ce le fa Credo che si metta di traverso Succedano robe strane Vediamo E invece no Rega Vedi Cioè questa qui È un'auto Che curva meglio Delle altre Magari che costano Un miliardo e mezzo Di dollari Questa qui Le curve Te le piglia meglio Guarda che roba Slitta un po' Eh C'è da dirlo Però a differenza Magari di quei Veicoli inutili Che costano 800 mila Un milione 200 milioni Di dollari E poi Vanno dritto Alla curva Beh almeno questa Ci prova a curvare Che poi si metta di traverso Quello è un altro discorso Ma va bene così Adesso direi di Provare Il drift Campo drift Che credo sia Uno dei punti forti Di quest'auto Uh Altro driftone Magari qui Che entriamo qua dentro Boh Oh Bello Ma il drift Lo fa bene Cioè abbastanza liscio Lineare Ecco rega Se volete un'auto Per driftare Che costi poco Prendete questa Non ti spiace affatto Come veicolo Sia esteticamente Che prestazionalmente Se alla fine Lo buttiamo Nella sua categoria È una sportiva Da 14 mila dollari O 24 mila Non ricordo Se lo buttiamo Nella sua categoria Devo dire che Secondo me È uno dei migliori Non nella fascia sportiva Ma nella fascia sportiva Di quel prezzo lì Perché alla fine Con tutte le modifiche Non superiamo i 100 mila Qui Che fate una sopravvivenza Con doppi soldi E li avete fatti Non male comunque sia Ragazzi Se avete da poco Cominciato a giocare A gt online Ve la consiglio Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se vi è piaciuto Lasciando un bel like Oggi abbiamo Acquistato e modificato La my bus Su penumpra In mancanza di nuovi veicoli Abbiamo ripreso Questo gioiellino Quindi ragazzi Mi raccomando Superiamo assolutissimamente I 300 like Se volete altri video Di questo tipo Dove andiamo ad acquistare E modificare veicoli Su gt online Mi raccomando Controllate che l'ex Andate Cliccatelo per bene Oltre condividete Ci vediamo per questo video Quindi se volete passare Dal mio video Sono subito E tutto Bella raga Ciao